Un giorno si racconterà una storia strana, qualcosa che chi non ha vissuto riuscirà a stento a immaginare. Ma è successa e noi eravamo lì. Un paese che andando oltre alla propria bellezza ha trovato la propria forza. Tutti insieme, facendo ognuno la propria parte, abbiamo fatto la differenza. Perché è così. Noi c'eravamo, anche se non ci si poteva vedere. Noi eravamo lì, a combattere con coraggio un nemico invisibile. E quando dal mondo torneranno ad ammirarci, troveranno quel sorriso di chissà il valore di un abbraccio, di chissà che stare uniti non avrà più lo stesso significato. Noi siamo italiani. Noi siamo 1872, tranquillizzate la signora e ditele che andrà tutto bene. Grazie ragazzi.